Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip semifinale, Lorenzo Flaherty e Ignazio Moser eliminati. Semifinale del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena. Sin dai primi minuti della puntata, sono state tante le emozioni provate dai concorrenti. Il pubblico ha potuto emozionarsi con la richiesta di matrimonio di Daniele Bossari per Filippa Lagerbach. Quest'ultima ha fatto una sorpresa al concorrente, con cui sta da ben 17 anni. La coppia ha commosso anche Larry Blasi e Alfonso Signorini. Una storia d'amore molto apprezzata dal pubblico. Grande sorpresa anche Aida Espica, la quale ha potuto videochiamare suo figlio Aaron. Ignazio Moser ha perso il televoto contro Cristiano Malgioglio, ma prima di abbandonare la casa ha ricevuto una sorpresa da Cecilia Rodriguez. Il secondo eliminato della serata è stato Lorenzo Flaerti. Quest'ultimo è finito al televoto con Luca Onestini, attraverso una strategia di Ivana Mrazova. La modella è stata costretta a lanciare questo televoto per salvare la coppia Onestini, composta da Luca e Raffaello Tonon, il quale altrimenti sarebbe finito in nomination contro Cristiano. Nel corso della serata sono rientrati finalmente in casa Aida e Daniele, eletti finalisti dopo Giulia Delellis. Daniele Bossari e Aida Espica rientrano nella casa del grande fratello Vip. Daniele e Aida sono rientrati in casa stupendo tutti gli altri concorrenti. Ilaria ha mostrato loro il filmato che spiega quanto accaduto la scorsa puntata. I concorrenti sono stati felici di riaccogliere in casa i loro compagni di avventura. I telespettatori hanno potuto anche assistere alla dichiarazione d'amore di Andrea Damante per Giulia Delellis. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto, però, riabbracciare la sua Giulietta. La coppia è stata, infatti, divisa da una parete. Molto emozionante anche l'incontro tra Luca e suo padre. . Quest'ultimo si è dichiarato orgoglioso di suo figlio, il quale insieme a Tonon ha ricevuto la maglietta del Bologna, firmata dai giocatori. . Grande fratello VIP, Ivana Mrazova finalista, Malgioglio eliminato, Tonone Luca al televoto. . Ivana Mrazova ha dovuto prendere una scelta molto importante. . La modella doveva scegliere con chi andare al televoto tra Malgioglio, Tonone e Luca. . La giovane ha deciso di sfidare Cristiano. . Ivana ha trionfato ed è la quarta finalista di questa edizione. . Raffaello e Luca finiscono al televoto e uno dei due diventerà il quinto finalista. . La serata si è conclusa con l'entrata di Ilari Blasi e Alfonso Signorini all'interno della casa. .